Sì, guarda, io credo che raccontare questo film e i personaggi avete due o tre giorni? Perché questo è, perché veramente... Stiamo parlando di true detective, ma sono due personaggi straordinari, un film è imprevedibile. Raccontarlo, come ha detto il direttore di Sky Atlantic, è impossibile raccontarlo. Lo racconti in due parole, lo normalizzi, lo racconti per quello che tutte le sfaccettature che ha sembra logorroico. Bisogna vederlo, è onirico, è visionario, è vero, come la parola che c'è nel titolo. Il mio personaggio è un po' più tranquillo del suo, per cui io doppio Woody Harrelson, il detective Hart, invece Rihanna il detective Cool. Il mio doppio Matti Meccone, ma tornando sulla serie, più che sui personaggi, che in realtà è una serie che si fonda su due personaggi, è... Un arco temporale lungo. Sì, un arco temporale di 17 anni, ma è, credo, a mio avviso, che ho un po' di... ho seguito molte serie americane negli ultimi dieci anni. Mi sembra forse il prodotto migliore... Bellissimo. Cinema. ...che abbia incontrato in questo... in questo percorso. Mi viene in mente da Twin Peaks, di che siamo forse a vent'anni fa. Vent'anni fa, sì. Questo mi sembra che sia proprio una serie che potrebbe rivoluzionare ulteriormente quello che hanno fatto in America, come accadde con Twin Peaks. Assolutamente cinema. Questo è girato come cinema, è recitato, scritto. Forse è meglio del cinema che si fa adesso e infatti vedendolo su uno schermo così grande e non su un televisore regge, funziona, è più bello. Perché se no la televisione è girata per la televisione, per quelle dimensioni e proporzioni, proiettata su uno schermo grande non funziona.